Buona giornata da Eleonore, sto facendo questo video per valutare un po' la situazione a livello di clima, vedere un po' come evolve quest'estate, avevo fatto una lettura ed è andata molto bene, perciò volevo appunto controllare nuovamente come evolverà questa stagione, anche se ciò che viene detto dovete prenderlo molto con le pinze, anzi dovete stare attenti in media perché stanno dicendo cose non vere riguardo l'acqua e riguardo la situazione. E' vero che il ciclo è cambiato, ma è cambiato nel modo chimico, quindi è un po' l'uomo che ha voluto questo, non posso approfondire troppo perché come sapete ve lo posso dire solo in modo criptico. Allora vediamo un po' la situazione, adesso è inizio luglio, quindi controlliamo come evolve la situazione il 10 luglio. Ancora bel tempo, come evolve la situazione il 10 luglio. Ancora bel tempo, come evolve la situazione il 10 luglio. Ancora bel tempo, ci sarà molta pioggia, pioggia e vento, quindi un po' di tempesta. Metà agosto, torna al bel tempo. 20 agosto, sempre bel tempo. Inizio settembre, ancora sola. Metà settembre. Variabile. Ok, per questa lettura ci fermiamo qui e continueremo poi in un'altra sessione. Grazie. Grazie.